Sì, è arrivato il primo gol, però abbiamo fatto anche un'ottima prestazione, peccato per il risultato, forse abbiamo avuto 10 minuti del secondo tempo di sbandamento e questo ci è costato caro, quindi partiamo dagli 80 minuti fatti bene secondo me, abbiamo fatto una buona partita e ripartiamo da quegli 80 minuti. Quella prima partita che giochi interamente, insomma fisicamente stai bene? Sì, fisicamente sto bene, ho lavorato tanto nella sosta, magari ho appennato la prima partita quindi fisicamente mi sento bene. Tornando alla partita, dicevi 10 minuti di blackout, però perché il Teramo poi non è riuscito magari a pareggiarla? Un punto sarebbe stato prezioso. Sì, sì, avevamo di fronte anche una squadra molto forte ed esperta, quindi ci stanno anche loro in campo. Una squadra come loro, dopo che ti fanno due gol, è difficile anche per noi cercare di fare gol, perché loro si sono abbassati, squadre esperte, non siamo più riusciti a fare gol. La classifica torna a fare paura, noi la classifica non la dobbiamo guardare, noi dobbiamo cercare di fare più punti possibile, non dobbiamo guardare né sopra né sotto, perché dobbiamo pensare solo a noi, a noi a vincere le partite. Non possiamo permetterci di sbagliare quei 6-7 minuti come abbiamo fatto, ma soprattutto di atteggiamento forse e di testa, può darsi pure atteggiamento. Io sono arrivato da poco, però una squadra che deve salvarsi non può permettersi di sbagliare 6-7 minuti così.